Migranti e percorsi di integrazione. Al Maschio Angioino, un convegno organizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, mette a confronto esperienze e strategie adottate da soggetti istituzionali e privati per l'inclusione sociolavorativa delle persone immigrate. Già da tempo stiamo partecipando ad una serie di iniziative, iniziative sicuramente per far emergere un bisogno che è quello di pensare proprio a delle misure di inclusione che non siano soltanto l'accoglienza, che non siano soltanto una risposta all'emergenza ma soprattutto una prospettiva che guardi alla presenza nei nostri contesti, quindi nella nostra comunità quotidiana. Un aspetto fondamentale per tutti è l'integrazione socio-economica e l'integrazione nel mercato di lavoro, quindi vogliamo lavorare sul rafforzamento di un'inclusione a livello economico. Poi le responsabilità che riguardano un'integrazione morbida toccano sia alle comunità che accolgono i migranti che ovviamente i migranti stessi ed è qua che il ruolo delle autorità locali, delle autorità comuni e delle regioni sono fondamentali a creare un contesto e avere le risorse disponibili per poter sviluppare questo tipo di percorso verso un'integrazione morbida. Fra gli argomenti discussi, il ruolo della cooperazione istituzionale per la riuscita dei processi di integrazione è il tema del cosviluppo legato ai movimenti migratori, ovvero quell'aspetto di miglioramento e di arricchimento delle comunità e dei territori sia di origine sia di destinazione dei migranti. Credo che gli enti locali e il livello regionale e il livello nazionale possano fare tantissimo e soprattutto che debbano essere in maniera condivisa a vari livelli pensate delle azioni, delle azioni concrete. Penso quindi non soltanto, come dicevo prima, all'accoglienza, non soltanto alle iniziative che riguardano l'integrazione, la conoscenza della lingua italiana o delle attività, delle culture, l'incontro delle culture, ma anche delle prospettive di lavoro che non vadano però in contrasto e in contrapposizione con quelle locali. Intendo dire che dobbiamo avere come istituzione la capacità di integrare misure di inserimento lavorativo che non mettano contro, quindi non alimentino in qualche maniera anche forme di emarginazione o di discriminazione.